Musica Tutte le prestazioni sospese per il coronavirus torneranno al Morelli di Sondalo e il 6 e 7 padiglione seguiranno i pazienti Covid, accolte da Fontana e richieste di sindaci dall'Alta Valle Comitato. Un documento con critiche costruttive per ridisegnare una sanità a beneficio della popolazione, il sindaco Scaramellini fa il punto sulla sanità di montagna, priorità sostenere il pubblico e i servizi territoriali. Approderà all'attenzione del prefetto di Sondrio la grave situazione a carico dei lavoratori e delle mense scolastiche, gli ammortizzatori sociali stanno finendo e sul futuro monta la preoccupazione. La notte scorsa l'orso è tornato in Valtellina e ha sbranato 5 pecore al pascolo sulle montagne di Grosio. La macca verrà scoperta all'alba di oggi, il sindaco invita la comunità alla prudenza. Buonasera, buonasera a tutti. In apertura alla sanità, il futuro dell'ospedale Morelli di Sondalo è stato esaminato oggi pomeriggio a Milano, nell'incontro fra la regione, i sindaci dall'Alta Valtellina e gli esponenti del Comitato a difesa della sanità di montagna e servizio. Quale futuro per l'ospedale Morelli di Sondalo? Questa è la domanda che è stata premessa filo conduttore del vertice svoltosi oggi pomeriggio a Milano, un momento di confronto tra la regione rappresentata dal presidente Attilio Fontana, dagli assessori al welfare Giulio Gallera alla montagna Massimo Sertori, i sindaci dall'Alta Valtellina che avevano chiesto ufficialmente l'incontro e i rappresentanti del Comitato a difesa della sanità di montagna, soggetto che ha lanciato anche una petizione per chiedere l'autonomia gestionale dell'ospedale di Sondalo. Al termine del confronto, durato circa tre ore, sono state prese alcune importanti decisioni. Domani la regione darà indicazioni alla direttore generale di ASS Tito Maso Saporito di riportare a Sondalo tutte le attività che sono state sospese o trasferite durante l'emergenza sanitaria. Non solo, è stata accolta la proposta avanzata dal Comitato di destinare i padiglioni 6 e 7 ai pazienti contagiati da coronavirus. Il piano verrà inviato dalla regione a Roma nell'ambito della definizione dei centri Covid. Siamo soddisfatti il primo commento del sindaco di Sondalo, Ilaria Peraldini. È stato compiuto un passo necessario per la nostra gente, per il personale del Morelli e anche per i tanti turisti che frequentano la nostra valle. E ci sono già i primi riscontri concreti dal prossimo mese di luglio. Fa sapere a SST se l'ha riaperto il punto nascite chiuso durante la fase più acuta dell'emergenza che ha visto l'ospedale di Sondalo impegnato in prima linea come ospedale Covid-19. A Sondalo, nel primo piano seminterrato del quarto padiglione, dal 1 luglio verrà ripristinata l'attività esistente prima dell'emergenza sanitaria. Nel frattempo, spiega a SST, è già stata ripristinata la chirurgia ostetrica e ginecologica e sono riprese le attività ambulatoriali rivolte a mamme in attesa neonati, nel pieno rispetto delle prescrizioni sulla sicurezza. Parliamo ancora di sanità a cambio della guardia. La Direzione Generale Sanità di Regione Lombardia, Luigi Caiazzo, cede il posto a Marco Trivelli, attuale direttore generale degli spedali civili di Brescia e prima del Niguarda di Milano per assumere l'incarico di Vice-Segretario Generale della Regione. In questo nuovo ruolo, Caiazzo, 51 anni ex dirigente della Mobile alla Questura di Lecco, avrà il compito, annuncia il Presidente Fontana, di coordinare tutte le fasi dell'evoluzione della riforma sanitaria e dell'integrazione sociosanitaria. La squadra regionale si rafforza per affrontare la sfida legata all'evoluzione e modernizzazione del sistema welfare, dichiara l'assessore Gallera, del quale voci insistenti ipotizzavano una sostituzione smentita dall'interessato e per ora scongiurata. Trivelli, che tra anni fa a Sondrio firmò il protocollo d'intesa tra Niguarda e SST Valtellina per la riabilitazione reumatologica di pazienti milanesi all'ospedale, Morelli lavorerà per attuare l'evoluzione del sistema sanitario a livello di offerta ospedaliera e di assistenza territoriale nella fase post-Covid. Il cambio del dirigente è il primo segnale di cambio di rotta nella sanità lombarda, dichiara il capogruppo regionale PD Fabio Pizzul, ma la responsabile delle scelte compiute durante l'emergenza resta la politica. Prende forma il documento redatto dai distretti di Sondrio, Morbegno, Tirano e Chiavenna con critiche costruttive al piano di riorganizzazione della sanità elaborato dal Politecnico di Milano. Priorità i servizi territoriali e la sanità pubblica. Privilegiare la sanità pubblica e valorizzare un modello in grado di rispondere ai bisogni dei cittadini sia attraverso gli ospedali sia con una rete territoriale che garantisca servizi capillari e diffusi. Questa è la sanità di montagna che emerge nel documento redatto dai distretti di Chiavenna, Morbegno, Sondrio e Tirano con osservazioni critiche ma costruttive nell'interesse della collettività al piano elaborato dal Politecnico di Milano. A dirlo il sindaco di Sondrio, Marco Scaramellini, presidente della conferenza dei sindaci, che rivendica la centralità dell'ospedale del capoluogo. Il documento che stiamo elaborando come distretti di Tirano, Sondrio, Morbegno e Chiavenna cerca di portare un contributo criticamente costruttivo al piano del Politecnico. L'intento è quello di portare un aiuto, portare delle proposte aggiuntive per migliorare questa base che è questo piano del Politecnico. Tra le proposte c'è quello di puntare sempre di più sulla sanità pubblica ma anche avvicinare sempre di più l'ospedale alle attività territoriali. L'obiettivo è proprio quello di rafforzare la sanità pubblica per evitare che ci sia una deriva verso le strutture private che comunque svolgeranno una funzione importante ma deve essere una funzione complementare. Quindi se noi riusciamo a rafforzare la sanità pubblica faremo l'interesse dei cittadini. È chiaro che non parliamo solo di ospedali ma parliamo anche di servizi territoriali che sono importantissimi quindi dovranno essere complementari ai servizi resi negli ospedali. Sondrio è ovviamente baricentrico, è l'ospedale del capoluogo geograficamente è in posizione strategica e quindi a mio parere dovrà restare in riferimento anche se tutti gli altri Poli dovranno avere una loro vita importante e sempre più attiva. Il patrimonio dell'ospedale di Sondalo non va disperso spiega Scaramellini magari anche attraverso una gestione autonoma. Sono anche convinto che questa emergenza che ha messo in luce le qualità di Sondalo possa servire molto a trovare una destinazione sempre migliore a questo ospedale quindi io sono molto positivo. Cosa si sente di dire ai sindaci dell'Alta Valle i referenti del comitato che si sono sfilati dalla conferenza territoriale? Io spero proprio che i sindaci di Alta Valle rientrino nei tavoli istituzionali per seguire un percorso insieme agli altri sindaci che ha un solo obiettivo quello di potenziare la sanità pubblica per tutta la provincia. Parliamo ancora di sanità. No alle furbizie sui congedi parentali contro i lavoratori della sanità. Lanciare il monito alla Federazione di Sondi o di Rifondazione Comunista che riferisce la difficoltà segnalata da diversi dipendenti del settore ad accedere ai permessi ordinari aggiuntivi della legge 104 che consente di assentarsi dal lavoro in caso di grave certificata disabilità propria o di un familiare bisognoso di assistenza. Non vorremmo, dichiara la forza politica di sinistra che da parte di ASST prevalesse una interpretazione restrittiva delle normative volta a coprire a strutturali carenze di organico. In tal caso assisteremmo al paradosso di lavoratori prima santificati per il lavoro fatto in questi mesi e ora vessati. Di qui l'appello alle organizzazioni sindacali affinché sappiano rappresentare le legittime istanze dei lavoratori vigilando sulla piena applicazione della norma a tutta di chi versi in condizione di oggettiva necessità. Il decreto del Governo sostiene la rifondazione consente di fruire anche per i mesi di maggio e giugno di 12 giorni aggiuntivi di permessi ex legge 104. Ambiente, digitalizzazione e risparmio, Acel e IVV, energie, le aziende di vendita a gas e elettricità di Lecco e Sondri ripartono puntando su offerte green e nuovi siti per mettere al centro il cliente. Vediamo. Green più digital uguale risparmio è l'equazione che segna la ripartenza di Acel Energie, IVV Energie ed Enerxenia, le tre aziende sorelle di vendita gas ed energia elettrica, che contano quasi 120.000 utenti tra i territori di Lecco e Sondrio e altri 200.000 tra Como, Monza, Varese e San Donato di Piave. Un passo deciso verso la digitalizzazione e la sostenibilità per le tre società del gruppo ACSM Agam, maturato in un momento storicamente delicato, in cui la pandemia ha avuto pesanti riflessi sul piano socio-economico. Si tratta di una scelta netta e strategica con cui intendiamo trasmettere un messaggio di grande forza. Green è più conveniente, sottolinea il nuovo amministratore delegato Giovanni Perrone. In controtendenza rispetto alla norma, abbiamo voluto che, anche sotto il profilo economico, l'opzione della sostenibilità fosse quella più conveniente. Acel e IVV Energie intendono svolgere la propria parte, anche facendo rete con le istituzioni del territorio, per evitare che l'ombra della crisi spenga i riflettori sui temi ambientali, sottolinea il presidente Giovanni Priore. La policy green si afferma in tutti i settori dell'azienda, della sua modalità di rapporto con la clientela e della sua proposta commerciale. Due punti cardine del piano. Da un lato favorire il contatto diretto tra operatori e clienti grazie ai nuovi siti web. Dall'altro la creazione di un'offerta green, più conveniente di quella tradizionale, con domiciliazione bancaria della bolletta, bolletta online e, per la fornitura di luce, energia elettrica 100% da fonti rinnovabili. Nella messa a punto delle nuove offerte, afferma il responsabile marketing Martin Ignacio Isola Bella, abbiamo voluto differenziarci dai nostri competitor per premiare i consumatori e i clienti che ci seguono in questo percorso di sostenibilità. Da un punto di vista digitale, attraverso siti strutturati per garantire la miglior user experience e sul piano delle offerte, costruendo pacchetti in cui la convenienza cresce in relazione alla scelta di comportamenti green e la riduzione della propria impronta ambientale. Però i dati sulla emergenza coronavirus proprio di oggi, secondo il report fornito da Regione Lombardia, salgono a 1.505 i contagiati in provincia di Sondrio, se in più rispetto alla giornata di ieri. Tra i lavoratori messi in difficoltà dal coronavirus ci sono gli addetti alle mense scolastiche, gli ammortizzatori sociali stanno finendo. In estate non percepiranno stipendio, per l'autunno non ci sono ancora certezze. I sindacati chiedono l'intervento del prefetto, che per venerdì e per domani ha già convocato un incontro. I dettagli nel servizio. Lo stop alle lezioni in presenza, prolungato per tre mesi e mezzo, ha prodotto pesanti effetti anche su numerosi comparti di servizi legati all'attività scolastica. È il caso delle mense, il cui personale, in larga parte femminile e spesso part-time, dunque già esposto ad una condizione di vulnerabilità, è rimasto a casa a partire dal 24 febbraio, giorno di chiusura delle scuole. Anche se hanno potuto ricevere l'anticipazione del Fondo Integrazione Salariale, queste lavoratrici, lamentano i sindacati Filcams CGL e Wiltux Will, si sono comunque viste un taglionetto nella loro busta paga e ora si trovano ad affrontare in modo anticipato il periodo di sospensione estivo, in cui non percepiscono nessun tipo di sostegno al reddito, in quanto si sono esaurite le settimane di copertura dell'ammortizzatore sociale causa Covid-19. E anche su settembre, al momento, ancora poche le certezze. La situazione è stata rappresentata dai due sindacati di categoria in una lettera al prefetto Pasquariello, affinché questo problema possa giungere alle superiori istanze istituzionali e perché, per quanto di sua competenza, l'autorità di governo possa sollecitare le amministrazioni comunali interessate al servizio di mensa scolastica svolto in appalto ad affrontare in modo anticipato la riorganizzazione del servizio, garantendo nel contempo la continuità occupazionale e reddituale di ogni lavoratrice e lavoratore del settore, disciplinato dal contratto nazionale della ristorazione collettiva. La situazione precaria degli addetti del comparto mense è già stata oggetto di varie iniziative a livello nazionale e regionale. Anche la nostra realtà provinciale, segnalano Filcamps e Wiltux, si vede investita di questa problematica, per non parlare di chi è inserito nelle cooperative sociali. Insomma, chiedono le segretarie di Filcamps e Wiltux, Marina Pensa e Antonia Piani, per queste ragioni è di primaria importanza avere certezze rispetto alla ripresa di settembre, per l'anno scolastico 2020-2021, in cui il servizio mensa, riconosciuto comunque come parte integrante dell'offerta formativa, possa riprendere contestualmente alla didattica. La viabilità lavora in corso lungo la 36 sul ponte di Verceia, in Val Chiavenna, che bypassa il torrente Ratti, per consentire l'esecuzione di lavori in programma dalle 21 alle 6 del mattino, la lunedì a venerdì fino al 28 giugno, il traffico è fatto defluire lungo strade alternative. 15 milioni di euro sono le risorse messe a disposizione da Fondazione Cariplo attraverso il bando Let's Go, una misura destinata agli enti del terzo settore. Vediamo. Let's Go, così si chiama il nuovo bando realizzato da Fondazione Cariplo, una misura straordinaria ideata per supportare gli enti del terzo settore che garantiscono servizi e iniziative e che contribuiscono in modo significativo alla coesione e alla crescita del territorio, con particolare attenzione alle famiglie e alle persone fragili. Il bando, al quale ha aderito la Fondazione Peppino Vismare, che vede impegnate le 16 fondazioni di comunità, mette a disposizione 15 milioni di euro per sostenere l'operatività degli enti del terzo settore in sofferenza economica dopo la sospensione dell'attività o per gli extracosti legati alla riorganizzazione dei servizi per lavorare in sicurezza a causa dell'emergenza Covid-19. Let's Go è il primo intervento frutto della riprogrammazione dell'attività approvata lo scorso 28 aprile dalla Commissione Centrale di Beneficenza di Fondazione Cariplo. Va ad aggiungersi alle azioni già messe in campo a marzo e aprile per sostenere le necessità immediate in campo sanitario e sociosanitario. Per costruire il nostro futuro, sottolinea Giovanni Fosti, presente di Fondazione Cariplo, la coesione delle nostre comunità sarà un elemento fondamentale. fondamentale. Gli enti del terzo settore sono cruciali per le nostre persone, per le nostre comunità e per le nostre istituzioni, alle quali propongono iniziative nel campo dell'ambiente, della cultura del welfare. Perderli, aggiunge Fosti, significherebbe perdere pezzi di comunità. Perdere questa rete creerebbe un enorme danno economico, metterebbe in difficoltà le nostre famiglie, ma significherebbe anche disperdere l'insieme dei lavoratori e dei volontari ad esser collegato. Un patrimonio preziosissimo di cui le nostre comunità non possono fare a meno. In un periodo così difficile, nota Marco Dell'Acqua, presidente di Prova Altellina, Fondazione Cariplo e le 16 fondazioni comunitarie, hanno svolto un ruolo fondamentale. Fondazione Prova Altellina Onlus è intervenuta da subito sull'emergenza sanitaria e continuerà a lavorare per stare sempre vicino agli enti del terzo settore sul territorio che garantiscono servizi di welfare a sostegno della comunità. Il bando Let's Go è una misura straordinaria e un'opportunità per le organizzazioni che sono in difficoltà e si ponono l'obiettivo di garantire i servizi per una ripartenza insieme. Il bando con scadenza il 30 giugno prevede la concessione di contributi a fondo perduto in conto esercizio 2020 per dare continuità all'attività ordinaria dell'ente garantendo l'adeguamento e la prosecuzione dei servizi messi a rischio per l'effetto dell'emergenza COVID-19. Celebrata oggi in Duomo a Como dal Vescovo Cantoni la messa esequiale per il Vicario Generale della Diocesi Don Renato Lanzetti deceduto l'8 aprile all'età di 66 anni a causa del coronavirus presenti familiari originario di Torre Santa Maria nel cui cimitero la sua anima è tumulata e delegazione delle comunità valtrinesi dove Don Renato ha svolto il suo ministero Livigno, Lanzada e Grosio. Domani alle 20.30 il Vescovo celebra la chiesa di San Martino a Tirano la Santa Messa esequiale per altri due preti morti per la pandemia Don Marco Granoli e Don Alberto Panizza. La notte scorsa l'orso è tornato in Valtellina e ha sbranato cinque pecore e macabra scoperta all'alba per due pastori di Grosio che hanno trovato le carcasse dei loro animali. Il sindaco Pini rivolge un appello alla cittadinanza. L'orso è tornato in Valtellina e ha colpito ancora questa volta in maniera decisamente feroce. Sono particolarmente crude le immagini che un nostro telespettatore ci ha permesso di condividere con voi relative all'ultima feroce comparsa dell'orso in provincia di Sondrio avvenuta questa notte nel territorio comunale di Grosio. L'animale affamato dopo il lungo letargo che alcune settimane fa era stato avvistato a Livigno dove aveva rovistato nei cassonetti, questa volta si è spostato verso la media Valtellina sempre che si tratti dello stesso esemplare proveniente dalla Svizzera e approfittando del buio della notte ha raggiunto due greggi nella località Alp sul versante opposto alla Val Grosina sbranando cinque pecore. Sotto sciocchi i proprietari che questa mattina hanno fatto la macabra scoperta rinvenendo le pecore alcune agonizzanti altre sbranate completamente prive di vita. A diffondere la notizia l'amministrazione comunale di Grosio che conferma nella notte il passaggio dell'orso e i danni provocati al bestiame. Il sindaco Gian Antonio Pini raccomanda alla cittadinanza la massima attenzione e la messa in sicurezza degli animali negli appositi ricoveri al fine di evitare nuove perdite. Negli ultimi anni la loro diffusione è aumentata notevolmente accrescendo il disagio delle persone parliamo delle zanzare contro le quali con l'arrivo del caldo sono già in atto i piani di disinfestazione il caso di Sondio e Tirano dove il comune mette a disposizione gratuitamente dei cittadini prodotti biologici per uso domestico. Vediamo. Con l'arrivo del caldo e dell'umidità anche in Valtellina fanno la loro comparsa le zanzare. A Sondrio è iniziato il primo degli interventi di disinfestazione programmati dal comune per contrastare la presenza del fastidioso insetto contro cui si diversificano le strategie mirate alle larve e agli esemplari adulti. Il primo intervento antilarvale partito alcuni giorni fa punta ad annientare l'insetto nello stadio iniziale colpendolo nelle zone in cui si riproduce come i ristagni d'acqua. Quella alle zanzare è una lotta complessa e difficoltosa sottolinea l'assessore all'ambiente Carlo Mazza ma intendiamo mettere in campo tutte le strategie utili a contenerne la diffusione. L'intervento di disinfestazione raccomanda il comune deve essere affiancato da un'opera di prevenzione a cura dei cittadini evitando di creare l'ambiente ideale per la riproduzione. Controllare i ristagni sui davanzali, sui balconi e nei giardini risulta fondamentale. Il primo intervento è iniziato nei giorni scorsi in centro fra Largo Pedrini, Via Scarpatetti, Via Dante e Piazza Garibaldi e proseguirà in città e nelle frazioni interessando 3.000 fra tombini, caditoie e griglie di spazi pubblici. L'antizanzare è costituito da compresse effervescenti efficaci per tre settimane. Il secondo intervento analogo al primo verrà eseguito nel corso dell'estate. In un secondo tempo l'azione di disinfestazione avrà quali obiettivi? Le zanzare adulte che verranno sterminate attraverso la nebulizzazione di prodotti specifici. Anche Tirano ha avviato la campagna di lotta contro la diffusione della zanzara tigre con modalità simili. Per il secondo anno abbiamo deciso di intervenire con un piano di lotta preventiva, afferma l'assessore all'ambiente Stefano Portovenero. Evitando interventi di disinfestazione all'aperto sulla zanzara adulta, che sono inefficaci e dannosi per salute e ambiente, abbiamo previsto i trattamenti larvicidi diffusi nelle caditoie stradali e vicino alle zone più frequentate, come Viale Italia, le piazze, i parchi e le scuole, estendendo il numero delle aree trattate e la frequenza degli interventi. Previsto un trattamento al mese fino a ottobre. Il primo è già avvenuto a maggio. La zanzara tigre ha un limitato raggio d'azione, meno di 200 metri. Gli accorgimenti dei cittadini in orti, giardini, fruttetti, cortili, in casa e all'aperto sono determinanti, raccomanda il Comune. Per incentivarli, l'amministrazione mette a disposizione dei cittadini prodotti larvicidi 100% biologici adatti all'uso domestico, ecocompatibili e non dannosi per gli animali domestici, che verranno distribuiti gratuitamente attraverso edicole e tabaccherie nel numero di quattro pastiglie a persona, fino ad esaurimento scorte. Il volontariato protagonista a Morbegno, dove è avvenuta, abbiamo visto ieri, la consegna di automezzi alla Croce Rossa di Sondrio, sono stati donati da Canco Primo Aiuto. Ne parliamo in uno speciale in onda questa sera, 19.45 su Unica Lecco, 20.10 su Unica Sondrio, repliche lunedì alle 18.40 e 19.45. L'ultima notizia, a seguire le previsioni meteo, buona serata. Grazie a tutti.